Ciao, mi sta capitando spesso che diverse persone, anche per esigenze diverse, mi scrivano dicendo Simona, voglio raggiungere questo obiettivo X per la mia salute, la forma fisica, il benessere in famiglia e le ho provate tutte, ma non riesco e mi sento demotivato. Infatti, la maggior parte delle volte la mancanza di risultati porta a demotivarsi e perdere le speranze. Anche tu non riesci a restare motivato nella tua ricerca di benessere personale, nella cura naturale della tua salute o in ciò che richiede impegno per migliorare la qualità della vita? E ti sembra che i tuoi sforzi non paghino mai? Allora, questo video fa per te! Ma come si fa a mantenere sempre la motivazione per fare le cose giuste che portano ad ottenere dei risultati? Ci sono tante aree dove viviamo vuoti motivazionali. Lavoro, relazioni, salute, nel mio settore dimagrimento e forma fisica, sembra che l'impegno non sia mai abbastanza rispetto ai risultati che tardano ad arrivare. E se l'impegno da solo non basta, che cosa serve? Come motivarsi e trasformare questi sforzi da fatica in risultati? Come realizzare una vita piena di benessere e soddisfazione? Ci sarebbero tante cose da dire, ma oggi voglio concentrarmi su una in particolare, perché ti darò un consiglio che può cambiare tutta la tua vita. E se riuscirai a metterlo in pratica e lo trasformerai in un'abitudine, ti darà tantissimi incredibili benefici. I primi tre sono questi. Primo, ti farà vivere subito in uno stato di soddisfazione e molto di più. Secondo, sentirai la motivazione e l'entusiasmo scorrere come fiumi e resteranno sempre con te. Terzo, con questo approccio sarà più facile e più probabile che il tuo impegno porti i risultati che desideri. Ecco, ti sorprenderà sapere che per ottenere una motivazione costante è più efficace focalizzarsi sulle singole azioni specifiche invece che sul risultato finale. Poco importa se applichi questo metodo alla salute, al lavoro, alle relazioni. Funziona sempre. Mantieni l'attenzione sulle azioni che stai facendo in ogni singolo momento, invece di focalizzarti solo sul risultato finale che vuoi ottenere. In questo modo non perdi il piacere dei vari step intermedi pensando solo al traguardo finale. Questo approccio rende la vita molto più ricca e soddisfacente sul piano personale, emotivo, interiore profondo e ti darà anche una migliore opportunità di ottenere il risultato che desideri. Pensa, c'è uno studio scientifico che dimostra come questa semplice abitudine possa aumentare il senso di motivazione e soddisfazione anche quando manca del tutto. I motivatori, i trainer, gli atleti professionisti conoscono molto bene questa pratica e la applicano sempre. Una volta stabilito il risultato da raggiungere si focalizzano su ogni singola parte dell'allenamento. Così entrano nel giusto flusso dell'agire e sentono che stanno costruendo il risultato giorno per giorno invece di pensare di raggiungerlo alla fine. Quindi, ricapitolando, per avere motivazione costante e vera soddisfazione, bisogna concentrarsi sulle azioni che si compiono, non sulla meta finale. E questa può essere la risposta anche per te. Se vuoi coglierla farà la differenza, sia per come ti senti durante il percorso, sia per quello che ottieni al traguardo. Insomma, per tutta la vita. E se ti piace l'idea di vivere una vita naturalmente sana e sempre vincente, la cosa migliore che puoi fare è iscriverti al mio canale. Con un clic, così. Altri due punti prima di salutarci. Uno, per restare motivati è fondamentale anche avere lo spirito di chi vuole continuare a imparare tutta la vita. E per imparare sempre consiglio di confrontarsi con persone che rispettiamo, di cui ci fidiamo, anche se non sono esperte nel nostro settore, magari sanno darci quello stimolo in più, quello spunto che ci serviva per raggiungere una qualità maggiore in ogni ambito della vita. E questo è motivante. Due, ogni volta che ti senti giù e demotivato, prova ad aiutare qualcuno in difficoltà. Guardati intorno e chiediti chi potrebbe avere bisogno di aiuto, di incoraggiamento, anche solo di un apprezzamento per rimotivarsi. Familiare, un amico, qualcuno nella tua cerchia sociale o di lavoro? Ricorda le mie parole, il miglior modo per alimentare la tua felicità è alimentare la felicità di un altro. Basta una piccola cosa ma fatta col cuore e tu ne hai uno grande. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Se vuoi fare qualcosa di utile adesso, condividi questo video. Può aiutare molte persone a ritrovare motivazione. E nei commenti qui sotto mi piacerebbe leggere cosa fa ciascuno per motivarsi. Sarà interessante per tutti. E ci vediamo nel prossimo video, naturalmente. Ciao!